Ciao a tutti maghi e maghi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Magic e oggi ragazzi siamo su Clash Royale Allora ragazzi, oggi volevo, come vedete ho dei bauli da aprire, volevo fare il torneo, questo qua fuori legge Per vincere, per poter vincere la carta leggendare nuova che è uscita Avete visto magari gli aggiornamenti da altri video su Youtube e tutto, ci sono 4 nuove carte Volevo salutare in particolare Skeletor Man, che me l'ha chiesto nei commenti di salutarlo, quindi ciao, un salutone Allora ragazzi, il mio deck è sempre questo, non so se cambiarlo, vediamo che deck avevo già fatti Allora, questo qui, un 3.5, questo qua no, questo qua proprio lo eliminiamo del tutto Potremo provare questo e questo, però inizierei con questo qui per vedere un po' come va La prima iscrizione, come sapete, è gratuita e come potete vedere con 12 vittorie ci daranno la carta leggendaria Sappiamo anche noi che non arriverò mai a 12 vittorie, però vabbè, vediamo quello che riusciamo a combinare Sicuramente troveremo gente con le leggendarie nel deck, sapete che per noi è un po' una pecca Ah no, è vero, era così, dobbiamo scegliere noi Allora, io mi tengo questo Mi tengo lo strigone, anche se ci sta un po' sulle palle Mi prenderei, non so se la furia o lo specchio, quasi quasi mi prendo lo specchio No, prendiamoci la furia Prendiamoci le frecce e vediamo un po' cosa ci ha dato lui ragazzi Allora, sfida fuori legge, siamo contro Connor33 Allora, ci ha dato la razzo, ci ha dato il minatore, che non ci dispiace il minatore Io partirei, allora, partiamo Ah, guardate, lui ha già quella lì Guardate un po' che culo, vediamo un po' che Wow, e che attacco che ha E che attacco ragazzi Ha un attacco bellissimo Avete visto che parte contro la torre e la butta giù praticamente Allora, quelle guardie lì le dovremmo scassare senza problemi Esatto, riesce a dare un colpicino alla torre? No, non riusciamo a dare un colpo alla torre Lui ha sprecato una veleno Io butterei il mio scheletro qua, così Aspetto che mi si ricarica l'elisir Quello lì, ma lo lascerei anche attaccare perché non mi interessa più di tanto Vai di furia e lì facciamo un bel po' di danni ragazzi Lì sono un bel po' di danni Buttiamo lo stregone di qua No, vabbè, ma lì sono danni comunque ragazzi Guardate lì, abbiamo counterato la torre, perfetto Mi va benissimo Il nostro stregone dà qualche colpo a quella torre infernale Che gliel'abbiamo data noi Dà un po' fastidio, ma nessun problema Ok, vediamo se riusciamo a... Sì, sì, riusciamo a tirarla giù anche a lei Allora, la manca... La useremo poi le frecce per tirarla giù Buttiamo la torre bombarola Scusate, la torre bombardiera Facciamo così E difendiamoci da... Non mi ricordo già più come si chiama quella carta di leggendaria Ma fa lo stesso Allora, io direi aspettiamo che si ricarichi le... Ahia, frecce, frecce, frecce Facciamo così e via Ci danno troppo fastidio altrimenti Io direi possiamo buttare un minatore Però aspetterei l'elisir, ragazzi Perché una volta che abbiamo il minatore in mano Anche con l'arazzo di là potremmo tranquillamente buttarlo giù Oppure potrei buttare giù ancora lo scheletro E allora, fatemi pensare Qua buttiamo l'arazzo Proprio così, di cattiveria Qua abbiamo ciccato praticamente tutto Quindi butterei il minatore che li distrae un attimo La nostra torre principale dovrebbe attaccarli, esattamente E non dovrebbero neanche arrivare a torre Ahia, lui butta un bel golem Lui butta un bel golem Facciamo cannone Buttiamo il cannone così viene distratto E il golem è difficile da buttare giù adesso Buttiamo la torre bombardiera Potremmo provare con questa È difficile difendersi qua, eh Allora, intanto buttiamo le frecce d'aria E tiriamo giù una torre anche noi Molto bene Siamo uno a uno, ragazzi Stessa vita, stesse cose Quello lì cade giù e quell'altro cade giù Molto bene Io direi buttiamo uno scheletro gigante qua Giusto per distrarre tutto quel casino lì Uno stregone che attacca Molto bene, molto bene Ci siamo difesi Ci siamo difesi, ragazzi No problem Benissimo Ci siamo difesi, molto bene La battaglia termina tra dieci secondi Andremo al sudden match Sicuro come loro Io butterei Uno di quelli E butterei anche la torre Bombarola Qua bombardiera Sbaglio sempre, ragazzi Benissimo Va bene Va bene Ci stiamo più o meno difendendo No, malissimo Io butterei il minatore di là Tanto lui è concentrato ad attaccare Buttiamo lo scheletro gigante di lì Buttiamo lo stregone Ahia, ahia Lì ce la tira giù Eh, lì ce la tira giù Potrebbe tirarcela giù Sì Ce l'ha tirata giù, ragazzi Ha vinto lui Ma la prima è già persa Ma non ci preoccupiamo, ragazzi Vediamo un po' Allora Questa ce la prendiamo noi stavolta E vi danno di provarla subito Mi prendo anche la tronco Non voglio far tutto leggendario Ah, quasi quasi Sì Io mi prendo Mi prendo i moschettieri Qua prenderei la torre infernale Vediamo se riusciamo a dargli fastidio E vediamo lui cosa ci ha dato Allora Vediamo un po' Siamo contro Warley Allora abbiamo il cucciolo di drago Abbiamo gli scheletrini da uno Io butterei subito il cucciolo di drago qua Così dà un po' fastidio Esattamente così Scusate, mi è salito un piccolo rutto Ok, facciamo così Non dovrebbe tirarcelo giù Un colpo lo dai alla torre Un colpo l'abbiamo dato alla torre Molto bene Io scapperei dietro Esattamente con i tre moschettieri Così il tempo che ci si ricarica Noi qualche danno Dovremmo riuscire a farglielo comunque alla torre Il tempo che ci si ricarica l'elisir Butterei anche Ah, ecco, la fuorilegge Perché si chiama fuorilegge Lui ce l'ha fermato così La fuorilegge dovrebbe arrivare alla torre Picchia lui e va alla torre Perfetto E i nostri bellissimi Moschettieri counterano qua alla torre Molto bene ragazzi Siamo già 1 a 0 Buttiamo la tronco Così Perfetto Dovrebbe colpire anche lui E anche il moschettiere Molto bene ragazzi Non mi è dispiaciuta quella cosa Facciamo così Buttiamo gli scheletrini da 1 Qua Che sapete che comunque danno fastidio Buttiamo Lo spirito del ghiaccio Fermiamo un po' tutto Benissimo Perché quel moschettiere Ecco, quel moschettiere ci stava counterando la torre Allora Noi abbiamo il nostro cavaliere che va all'attacco Butterei Ai 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 Ce la facciamo tirare giù? Sì, ce la facciamo tirare giù quella torre Tanto ragazzi Ecco, un colpo andava giù Quindi vorrei dire Niente di preoccupante Aspetterei un attimo l'elisir Cosa facciamo? Possiamo fare la combo di prima Perché fuori legge E moschettieri Mi è piaciuta come cosa Facciamo così Lui ci sta counterando anche la torre principale Ragazzi Però non dovrebbe essere niente di troppo impegnativo Buttiamo una tronco Anche se Vabbè Perfetto Perfetto I nostri due moschettieri Adesso uno Da qualche colpo alla torre Molto bene ragazzi Cucciolo di drago In difesa da quei cosi lì Perfetto Bel colpo Buttiamo anche il cavaliere Allora Di quelli lì non mi preoccupo più di tanto Di lui mi preoccupo un po' di più Facciamo così E dovrebbe tirarlo giù Perfetto Aia Allora La fuori legge Potremmo usarla Aspettiamo un attimo Buttiamo ancora i moschettieri Facciamo sempre la stessa combo Perché comunque Ho visto che facciamo diversi danni Qua buttiamo uno spirito del ghiaccio Che è stato abbastanza inutile Butteremo una fuori legge Una tronco Per distrarre Ok Lui arriva e lo colpisce Me ne ha colpiti ben due Perfetto Quella torre infernale Eh Sì la torre infernale Sì la butto giù Sì perché ci serve Dobbiamo difenderci ragazzi Uno a uno Siamo A parte che abbiamo vinto Cioè mi basta Aspettare un secondo Qua buttiamo la fuori legge La tronco Eccola qua Ah ho sbagliato però Il nostro cucciolo di lago Perfetto Ragazzi abbiamo vinto La prima partita del torneo E non mi dispiace Sono abbastanza contento La fuori legge È una carta che potrebbe piacermi Perché Se potenziata Potrebbe essere Abbastanza forte Mi piace il fatto che Attacca così veloce Bene bene Sono contento E la prima battaglia È vinta Andiamo direttamente A fare la terza battaglia E vediamo se Riusciamo a vincere Pure questa Allora io mi prenderei Direi il principe O il cavaliere Ragazzi sapete che non mi ricordo mai Lui che tanca abbastanza bene Mi riprendo la fuori legge Io Mi prendo la sfera Infocata Cavolo però abbiamo dato A lui la torre infernale Che potrebbe darci Alcuni problemi Vabbè vediamo Vediamo un attimo Come giocarcela Siamo contro Nuzio Gamer Quindi Dove essere Uno youtuber anche lui Presumo Non lo so Allora Facciamo Io parto dietro Col mio principe Gli metto Lorda di Sgherri In supporto E non sono serviti Praticamente a niente Visto Sapevo che La torre infernale Ci avrebbe dato problemi Lo sapevo Lo sapevo Che ci avrebbe dato Qualche problemino Allora Ci ha dato il golem Quello là Normale Bene bene Sono contento Perché Io ho il mio trucco Il mio trucco Lo sanno più o meno Quasi tutti Fuori legge Su quella principessa lì Perché sennò Ci tira giù la torre da sola Proprio senza problemi Perfetto Se fa lo scatto Un colpo lo diamo Benissimo La nostra Ha anche abbastanza vita Devo dire ragazzi Perché Sembra avere abbastanza vita La fuori legge Allora Aspetto che mi si ricarica L'elisir Perché Il golem Vi avevo già fatto vedere In un video precedente Se non mi sbaglio Lo faccio partire da dietro Gli metterei L'orda di sgherri da 5 Vicina Sì Esattamente così In modo che Se butta giù qualcosa Comunque Viene distratta O fanno anche danni I nostri sgherri Molto bene Lui ci butta giù Quella Buttiamo il principe Che dovrebbe appunto Anche lui tirare giù La torre Benissimo E vanno tutte e due Sulla torre Da tirar Perfetto E una torre è andata giù Quel cucciolo di drago Io Non riuscirò a distruggerlo Però Abbiamo fatto qualche danno Guardate lì come va giù Anche la torre principale Ragazzi Vediamo se riusciamo a ucciderlo Quel cucciolo di drago Butta giù Bravo Bravo ragazzi Abbiamo vinto anche la seconda partita Con tre corone ragazzi Con tre corone Molto bene Sono davvero davvero contento Sono davvero euforico ragazzi Per chi guarda i film in streaming Sa cosa intendo dire Ah ci dà anche le corone Molto bene Sono contento Dovremo avere vinto Quindi il baule Il primo baule Ok Da arena 7 Ottieni Vediamo un po' cosa troviamo dentro 159 monete che ci fanno comodo Gli sgherri da 3 I barbari scelti Va benissimo Un cavaliere Quindi quello è il principe E lo stregone Va bene ragazzi Va bene Non mi lamento Facciamo così Apriamo anche i due bauli Omaggio Perché comunque Ce li ho da aprire E li apro Benissimo E qua monete È un po' che non usiamo anche Quasi quasi la metto nel deck Sapete La metto nel deck Anche perché A parte che non serve a niente Perché tanto i deck Non li stiamo utilizzando Scegliamo le carte Da là Quindi no È inutile È abbastanza inutile Apriamo anche un baulo d'argento Vediamo cosa Un mini pecca E l'orda di sgherri da 5 Apriamo anche l'altro Perfetto Aspetta aspetta Fammi li potenziare Perché io li voglio potenziare L'oro Migliora Perfetto E ce li abbiamo A livello 4 I nostri moschettieri Direi continuiamo Con un'altra partita E vediamo un po' Se la vinciamo O la perdiamo Mi prendo l'arco X Perché ragazzi Sapete che è illegale Mi prendo Lui fa danno ad aria Se non mi sbaglio Però Preferisco il Barile Goblin Mi prendo la veleno Eh Qua 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 prendo Prendo lo stregone Dai Anche se Sappiamo ormai Che ci sta antipatico Ma prendi allo stregone Lui si sarà preso Sicuramente Lo fuori legge Ci ha dato la scintilla Però Ci ha dato la scintilla E Ce l'ho anch'io Non mi dispiacerebbe Potremmo provare Proviamoci così Ci ha dato la principessa Anche ragazzi Allora Lui ha deciso di buttare giù Quella Maledetta Fornace Ok Fa così Io davanti Butterò lo stregone E là ci butterò Un bellissimo Barile Goblin Così iniziamo a fare Qualche danno Anche alla torre Benissimo Ok Qualche danno alla torre L'abbiamo fatto Se si carica in tempo Gli diamo un altro colpo Beh gli abbiamo scassato Perlomeno i Goblin Allora 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 Quelli lì Non mi preoccupo più di tanto Butterei una principessa Butterei Gli sgherri E vediamo un po' Se riusciamo a fare Qualche dannetto Si Qualche danno Lo facciamo Non tantissimo Però la nostra principessa Ha fatto il suo lavoro Lui ci butta una cimitero lì Noi butteremo L'arco X Esattamente qua Ha frizzato tutto Ad un tratto Ragazzi Cosa sta succedendo Ma non è vero Ce l'ho la connessione Dai dai Non fare così Maledetto Niente ragazzi Devo aver perso la connessione E abbiamo perso Questa partita Quindi Ne faccio un'altra Ne faccio un'altra Velocemente Sperando di non perderla E poi potremo La cimitero la prendo io Potremo anche vedere Quanto costa fare un altro torno Dovevo essere 100 gemme Ci prendiamo Assolutamente Da fuori legge Mi prenderei lo specchio Vediamo un po' Cosa riusciamo a combinare Anche con lo specchio A lui abbiamo dato La scintilla Che costa 6 Quindi Potremmo tranquillamente Farcela Allora Proviamo a partire cattivi Io direi Cimitero e fuori legge Perché comunque Fa il suo scatto La fuori legge E non mi dispiace Proprio per niente Vediamo un po' Ben Perfetto E qualche colpo L'abbiamo già dato Anche noi Ok Lui ha buttato Tutte e due gli stregoni Tutte e due gli stregoni E ha buttato anche lui Allora facciamo così Bombarolo Buttiamo una tronco lì Ok Buttiamo indietro I due stregoni E ok E ok Va bene Ci siamo più o meno difesi Ci siamo più o meno difesi Non mi lamento ragazzi Principessa dietro Minatore là vicino E qualche danno Anche qua Dovremmo esattamente farlo La nostra principessa Non attacca Però il nostro minatore Si Fuori legge Io direi Di cattiveria Veloce veloce E tira giù quella torre Dai fuori legge Vediamo un po' Cosa sei capace di fare Benissimo Benissimo Abbiamo fatto i danni Abbiamo fatto i danni E è quasi caduta pure la torre Farei così Butterei una tronco Giusto per dare fastidio Quello stregone lì Vediamo se Riusciamo a tirarlo giù Eh no Ha counterato l'altro Va bene Va bene Non mi lamento Un'altra tronco Via di specchio E facciamo così Molto bene Molto bene Non è arrivata la torre Comunque qua la torre lì La tiriamo giù con Anche una principessa Va bene Attacchiamo l'altra torre E buttiamo pure la principessa Qua così E fuori legge Non costa neanche tanto Se ci guardate ragazzi Costa semplicemente Tre di elisir Non è tantissimo Va Va abbastanza bene Direi Allora lui sta arrivando Con la scintilla Buttiamo giù la cimitero qua Vediamo se riusciamo A distrarlo Riusciamo a distrarlo Sì Perfetto Perfetto ragazzi Non ci ha dato il colpo E gli faccio anche la risata Perché sono un po' stronzo Allora Fuori legge Tronco di qua Che allontaniamo Questo maledetto E va benissimo Ok la fuori legge Ce l'ha tirata giù Io butterei il bombarolo Prepariamoci Prepariamoci Con la nostra principessa Facciamo sì Facciamola partire da dietro Almeno attacca anche Quel maledetto Stregone di ghiaccio lì E ok Lo stregone di ghiaccio È andato Butto un altro cimitero qui Eh lo sapevo E buttiamo una tronco Giusto per dargli Un po' fastidio Facciamo così Va benissimo Va bene Va bene Bombarolo Sì sì Direi bombarolo Che almeno attacca Lui ce ne butta un'altra ragazzi Ce ne butta addirittura un'altra Minatore Buttiamo il minatore Buttiamo il principe di là Lui ce l'ha tirata giù ragazzi Quindi Dobbiamo tirargliela giù anche noi Prima che finisca la partita Possibilmente Andiamo anche con la tronco E vabbè Comunque è andata giù È andata giù Siamo uno a uno Benissimo ragazzi Dobbiamo tirargli giù Soltanto l'altra Quindi farei così Principessa dietro Bombarolo Andiamo cattivi col bombarolo Benissimo Dai principessa Fai i tuoi danni Va bene Va bene Non mi lamento Minatore di là Ahia lui ci ha buttato La scintilla lì Quindi direi Fuorilegge Cavaliere dietro E intanto la stiamo attaccando Ok quella lì è andata giù Direi principessa Andiamo cattivi con la tronco E vai Dovremmo No Ne colpiamo solo uno Ma va bene Va bene Perché la nostra principessa Sta attaccando anche la torre Da un altro colpo principessina Va bene Va bene Io direi Cimitero Minatore Tanto per distrarre ragazzi Giusto per distrarre Bombarolo qua così cattivo Principessa dietro Ho fatto qualche danno Ho fatto qualche danno Sì l'ho fatto La tronco La tronco Andiamo cattivi con la tronco Lui si sta difendendo ragazzi Non vuole assolutamente cedere Facciamo così Buttiamo la fuorilegge La fuorilegge dovrebbe arrivare alla torre E dovremmo tranquillamente tirare la giù Giusto Giusto No Non arriviamo alla torre Però proviamo con una cimitero La nostra principessa dovrebbe scassare tutte quelle merde lì Dai principessa Dai un colpo Danne un altro Danne un altro principessina Buttiamo una cimitero No Facciamo così Sì no Due bombaroli Non so perché ho fatto così Ma va bene Buttiamo la tronco Ragazzi dai Abbiamo vinto Abbiamo vinto Perfetto ragazzi E siamo ad un'altra vittoria Mi dispiace per aver perso la connessione là Perché potevamo vincere anche quella Ma va bene così Va benissimo così Siamo a tre vittorie E due sconfitte Ragazzi Io continuerò il torneo In un prossimo video Tanto dura addirittura due giorni Io direi Apriamo questo baule d'oro Che abbiamo qui Vediamo L'orda di sgherri Ok Vavari scelti La fornace Va benissimo Io vi ringrazio per la visione Vi ricordo se il video vi è piaciuto Lasciatevi un like Commentate per dei consigli O quello che volete Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi Ricordo che Per chi vuole collaborare con me In descrizione Trova tranquillamente La mia email Può contattarmi da lì Noi ci vediamo in un prossimo video In una prossima live Ciao a tutti ragazzi